Io sono tifoso della Roma, da sempre, il mio cuore è per la Roma, però mi piace tantissimo il Boca, ho iniziato a vedere il Boca quando ero piccolo perché c'era Maradona, poi lo stadio, mi innamoravo dello stadio, ma io mi innamoro dei tifosi, i tifosi che sono passionali, mi fanno piangere, tifo per quella squadra, anche se non è la mia, tifo per il Boca, mi piace vedere il Pana di Naikos, mi piace vedere il Galato Sarai, o la San Benedettese in Serie C in Italia, perché c'erano dei tifosi che credono in quello che vedono.